Kevin, una partita, una prestazione molto convincente, una grande risposta ed è un segnale che con una settimana intera e lavoro in più è un'altra Udinese. Sì, l'importante esatto era cambiare perché dopo la brutta sconfitta col Dortmund, non tanto perché comunque le qualità erano veramente alte dell'altra squadra, ma sotto il nostro aspetto. Eramo stati poco aggressivi, cosa che chiedeva il mister. Questa settimana ci abbiamo lavorato duramente e oggi abbiamo fatto molto meglio. Ecco, da parte tua è arrivato anche il gol, una bella soddisfazione anche personale, dai, perché il gol in questo amichevole di prestigio, la prima firma è stata la tua, quella che ha sbloccato la partita e non ti sei fermato perché hai trovato anche un grande assist per Pussetto e hai rischiato di trovarne un altro ancora. Dunque, gran partita per te. Sì, oggi stavo bene fisicamente, comunque le gambe cominciano ad andare sia le mie che quelle dei miei compagni, il lavoro comincia ad essere smaltito e quindi siamo pronti per la Coppa Italia. Ecco, da capitano, un bilancio alla fine di questo ritiro. Sono state settimane intense prima Udine e poi questi 12 giorni qui in Austria. Che Udinese ritorna a casa in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Italia? No, sono state settimane molto impegnative dove abbiamo lavorato veramente duramente e però questo è importante perché comunque durante il campionato sarà lungo e le partite saranno molto intense e quindi il lavoro che abbiamo fatto adesso e a Udine ce lo troveremo nel proseguo del campionato e questa è la cosa più importante. Grazie a tutti.